Nel corso mi è piaciuto molto l'impostazione e poi tutto il calore che ho trovato delle persone, del gruppo e di Patrizia che è stata molto brava nel trasmettere le sue conoscenze. Questo corso lo consiglio a quelle persone che sono molto insicure nella vita e che vogliono migliorare la loro vita e soprattutto vogliono crescere interiormente e dare un contributo all'umanità. Da questa esperienza mi porto a casa la conoscenza, una tranquillità interiore e poi l'aver conosciuto molte persone con le quali si è instaurato un rapporto di amicizia e anche persone a cui si può chiedere un aiuto nel poter migliorare al meglio la vita. Mi sono liberato un po' di peso che avevo accumulato a causa di persone negative che frequento nel mio lavoro, nella famiglia, di persone che trasmettono delle paure e in più incominciare a conoscere qualcosa di meglio per poter migliorare la mia vita futura. Ringrazio Patrizia per la possibilità di aver potuto partecipare a questo corso e di tutti gli insegnamenti che è trasmesso e spero di seguirla in altri corsi che farà in futuro. Lo consiglio a tante altre persone.